... Omicidio a Soccavo, attacco al clan Vigilia. Da meccanico a spacciatore, Emanuele De Angelis è stato ucciso come un boss. Gli investigatori scavano nelle amicizie del 28enne assassinato nel quartiere della periferia ovest di Napoli, dove è in atto una faida. Industria Felix, regione al fianco delle eccellenze, a Napoli questa mattina nell'auditorium di Città della Scienza, la quinta edizione del premio dedicato all'eccellenza del tessuto produttivo della Campania. De Luca assicura, così aiutiamo le aziende ad uscire dalla crisi. Covid, incidenze in calo, ma è caos sull'inchiesta, dura presa di posizione di Lorenzo Medici, della Cisle Campania, sullo scandalo del Covid Center, c'è stata scarsa trasparenza nella gestione. Intanto l'Asla Napoli 1 sblocca oltre 130 assunzioni tra medici e specializzandi. Salerno, morti al porto, servono più controlli. A un anno dalla tragedia del 34enne Matteo Leone vanno a processo un collega e il datore di lavoro per omicidio colposo. Intanto i sindacati firmano un protocollo sulla sicurezza nello scalo. Iacovacci va in procura, si indaghi, sono tranquillo dopo il rogo della sua auto. Il capogruppo PD al comune di Avellino è stato ascoltato dagli inquirenti, ma sono convinto che sia stato un incendio accidentale, ha ribadito. Benevento ancora vandali nel centro storico, nuovo atto vandalico nella parte antica della città. Sono state rubate persino le rose piantate dai bambini di un'associazione che si prende cura del rione Trigio. Nella stessa zona altri danni agli arredi urbani nei giorni scorsi. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. Cominciamo dalla cronaca, l'omicidio di Soccavo. Da meccanico a spacciatore Emanuele De Angelis non era legato ad alcun clan, ma è stato ucciso, lo stesso come un boss. Ed ora gli investigatori cercano tra i suoi amici. Vediamo. Un meccanico dalla doppia vita di giorno in officina, di sera in compagnia di coetanei vicini al clan Vigilia. Un insospettabile che il 13 febbraio 2020 inciampò in un controllo mirato dei carabinieri, dove si trovava in scooter con 6 grammi di cocaina. Finì ai domiciliari e una volta scarcerato Emanuele De Angelis era tornato al lavoro. Si era anche sposato dando l'impressione di non voler intraprendere la strada della mala vita. Ma all'alba di ieri i sicari del clan Grimaldi Scognamiglio, che conoscevano le sue abitudini e sapevano che usciva presto da casa, lo hanno atteso nel cortile condominiale di via Contieri. Era un bersaglio facile, non è stato ucciso perché aveva un ruolo di primo piano nel clan con base in via Palanziello. Ciò non ha impedito ai nemici di Camorra di pianificare e attuare l'agguato. E dunque la polizia ora cerca di capire perché il giovane è stato ucciso proprio come un boss. I sicari lo hanno atteso nel cortile condominiale del parco in cui abitava e inutilmente ha tentato di fuggire mentre veniva inseguito da un pistolero che gli sparava dietro a raffica. È caduto in un lago di sangue nel giardino a pochi metri dove alle 7.30 di ieri è stato notato a faccia a terra senza vita da un residente che ha dato l'allarme. A terra la scientifica ha trovato e sequestrato 5 bossoli calibro 7.65 che farebbero pensare a un solo esecutore materiale del delitto, ma sicuramente con lui c'era un complice. Sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona nel caso in cui i malviventi non vi siano stati accorti potrebbero fornire le prime tracce per la loro identificazione. L'allarme di violenza minorile a Napoli è pronto. Il piano straordinario di controlli che partirà già da questo fine settimana intanto fa discutere la proposta di revocare il reddito di cittadinanza a quei genitori che non mandano i figli a scuola. Vediamo. Controlli davanti alle scuole, zona di mare chiaro blindata e si valutano anche provvedimenti più drastici come revocare il reddito di cittadinanza ai genitori che non mandano i figli a scuola. La prefettura di Napoli cerca di rispondere così all'escalation di violenza che si registra in città con protagonisti sempre più giovani e minori. Il piano dei controlli anche nei negozi che vendono coltelli e armi offensive parte già da domani sera. Per il direttore del Dipartimento di Giustizia minorile, Giuseppe Centomani che da anni lavora al fianco dei giovani per un'azione di prevenzione e recupero, lo stop al reddito non basta, anzi potrebbe essere controproducente per le famiglie. Io penso che a queste famiglie è più che togliere per dare qualcosa, nel senso di cercare di prendere in carico queste famiglie e conoscere la dimensione del disagio, dei problemi che hanno e cercare di fargli comprendere che affidarsi alle istituzioni, alla rete dei servizi territoriali è una cosa che gli può in qualche misura risolvere i problemi di base che in qualche modo fanno anche da alibi ad una mancata capacità educativa, ad una mancata attenzione educativa nei confronti dei propri figli. E sulla proposta di revocare la misura di sostegno per i genitori inadempienti è intervenuto anche il governatore De Luca che sottolinea la necessità di prendere decisioni anche sul piano penale, visto che non mandare i figli a scuola è un reato e che occorre mettere in campo azioni di prevenzione ma anche una forte azione repressiva, senza imbarazzo, ha detto il presidente De Luca. Cambiamo argomento a Napoli, ancora il premio Industria Felix, questa mattina nell'auditorium di Città della Scienza, la quinta edizione dedicata all'eccellenza del tessuto produttivo della nostra regione. Vediamo. 60 le imprese premiate nell'ambito del premio Industria Felix, quinta edizione campana con l'assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello e vertici di Confindustria, i rappresentanti delle numerose imprese presenti e le conclusioni del governatore della campagna, Vincenzo De Luca. Noi possiamo accompagnare le aziende in che modo? Primo, dico io, con un lavoro di sburocratizzazione radicale, quanto più possibile. Stiamo lavorando per eliminare tutti i permessi, le autorizzazioni, timbri, carte bollate non espressamente previsti dalle leggi. Poi con incentivi finanziari. Abbiamo pubblicato tutta una serie di bandi che riguardano l'innovazione tecnologica, l'imprenditoria femminile, la giovane imprenditoria per dare una mano, almeno nella fase di crescita delle aziende. E poi ovviamente cercando di aprirci qualche canale verso il futuro. Quindi non solo le filiere tradizionali, agroalimentare, sistema moda, meccatronica e quant'altro, ma anche, se è possibile, l'aerospaziale nel momento in cui si ridefinisce l'assetto organizzativo anche del Cira di Nord. E insomma, dobbiamo lavorare due volte di più per fare fronte ai problemi che sono davanti alle aziende. E ci sono eccellenze del mondo produttivo industriale campano che stanno favorendo la ripresa dell'economia. Lo hanno ribadito i vertici di Confindustria tra Ettino e Vigorito e anche l'assessore regionale alle attività produttive, Marchiello, che abbiamo sentito. Vediamo. La verità è che questa giornata, il premio Industria FedEx, del quale noi siamo partner convinti da cinque anni, alla quinta edizione, è un momento nel quale si attesta a delle imprenditrici e degli imprenditori il lavoro straordinario che hanno continuato a fare anche in una stagione difficile e che continueranno a fare anche negli anni a venire, creando valore per le aziende stesse e creando valore per il territorio all'interno del quale operano. Quest'anno 2022 potremmo chiamarlo l'anno dell'industria, l'anno della rinascita, l'anno del dopoguerra, un po' per quello che è successo con i virus e un po' per quello che sta succedendo con l'Ucraina e la Russia. Le industrie sono sottoposte a uno sforzo enorme, c'è qualche industria in qualche settore che naturalmente corre, come succede sempre in tempi di guerra, ma ci sono tante altre industrie che stanno soffrendo e vedere gli imprenditori che perseguono quelli che sono i loro obiettivi, che hanno la capacità di aggregazione come oggi fa solo piacere perché significa che la speranza rimane lì che il mondo possa cominciare a ragionare un'altra volta e prendere da queste brutte esperienze lo slancio per poter andare avanti. Le aziende che hanno questo tipo di performance e quindi vengono caratterizzate per le loro capacità hanno anche la forza di attirare appresso le altre aziende più piccole e meno performanti che si stanno adeguando e che stanno migliorando anche da un punto di vista industria 4.0. Noi abbiamo fatto vari bandi proprio per migliorare le qualità delle nostre aziende, per metterle a livello europeo e credo che ci stiamo riuscendo. Veniamo all'inchiesta della Procura di Napoli relativa agli ospedali Covid. Siamo amareggiati, questa inchiesta denota scarsa trasparenza gestionale e nelle spese, così la CISL, Lorenzo Medici della FP CISL Campagna. Vediamo. L'indagine sull'appalto da 15 milioni e mezzo di euro sugli ospedali Covid ha sollevato un nuovo polverone sulla sanità regionale. La Procura di Napoli vuole vederci chiaro sull'acquisto dei ventilatori per i reparti modulari. De Luca ha rispedito al mittente le accuse, bocciando l'inchiesta dei PM. Per gli addetti ai lavori del comparto sanitario però sono diverse le opacità sulla gestione in Campania. Il nostro giudizio è di grande amarezza perché è chiaro che l'emergenza porta sempre, voglio dire, un liberi tutti e l'emergenza ha condizionato anche le procedure di trasparenza. Ma fermo restando che la magistratura deve e dovrà fare il suo corso, a noi preoccupa quello che ha deliberato la Corte dei Conti, che ci sono lì invece delle deficienze e una sciatteria di gestione, insomma 62 milioni di doppio pagamento di fatture non possono passare in osservare. Se tutti quelli che hanno provvedimenti giudiziari, c'è un regolamento regionale che prevede la rotazione e lo spostamento in altri compiti. Cosa che viene fatta per il comparto e sistematicamente l'elite invece viene protetta. Questo è un'ingiustizia che noi non tolleriamo. Nel frattempo l'incidenza dei contagi è in diminuzione. Secondo la Fondazione Gimbe tutte le province della Campania fanno registrare il segno meno, ma la curva resta ancora superiore alla media a Salerno, Avellino e Benevento. In Irpinia intanto l'Asla ha comunicato la positività di 218 persone. E sul fronte personale l'Asla Napoli 1 ha sbloccato in queste ore 133 assunzioni tra dirigente medico di anestesia e rianimazione specializzati e specializzandi. Due persone a giudizio per omicidio colposo a un anno dalla morte nel porto di Salerno del 34enne Matteo Leone. Vediamo. Due persone andranno a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Matteo Leone, nel 34enne Salernitano, che perse la vita mentre lavorava al porto, travolto da un carrello alla cui guida c'era un collega coetaneo, ora imputato con il datore di lavoro. A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa del giovane mercoledì si è tenuta l'udienza preliminare alla cittadella giudiziaria. Bisognerà ora accertare, anche grazie alle perizie e alle testimonianze messe in campo, se il collega alla guida del carrello aveva il cellulare in mano, come in un primo momento sostenuto dalla procura e soprattutto se erano state rispettate tutte le misure di sicurezza da parte dell'azienda ed è proprio l'attenzione alla salute dei lavoratori al centro dell'impegno dei sindacati. A breve siamo alla firma del protocollo sulla sicurezza nei porti di Salerno, avendo coinvolto e coinvolgendo tutti gli attori principali, ma tanto c'è ancora da fare. Abbiamo rilanciato a gran voce la necessità che aumentino gli ispettori per la sorveglianza all'interno del porto come organo importante che serva a tutelare e salvaguardare il lavoro e soprattutto abbiamo detto e ribadito che c'è anche la necessità di fare della formazione ai dipendenti. Fondamentale tutelare il lavoro ma soprattutto la vita dei lavoratori. Continueremo a fare la nostra parte e continueremo a tutelare tutti coloro che sono al lavoro non solo nel porto ma anche su tutto il territorio provinciale perché sinceramente va ricordato una cosa, non si può associare la parola morta alla parola lavoro. Sono tranquillo, sono convinto che sia stato un rogo accidentale, ma ben venga l'attività della Procura per vederci più chiaro. Così il capogruppo del PD al comune di Avellino Ettore Iacovacci è stato ascoltato dai magistrati dopo l'incendio della sua auto. Vediamo. Sono tranquillissimo. Un episodio su cui la Procura vuol vederci chiaro non ancora archiviato come rogo accidentale. Il capogruppo del PD al comune di Avellino e segretario dei metalmeccanici dell'UGL Ettore Iacovacci è stato ascoltato dai magistrati per l'incendio della sua autovettura avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Lui si dice tranquillo, ben venga l'azione della Procura, ma per quello che mi hanno riferito i vigili del fuoco resta un cortocircuito. Per quello che so, la Procura sta indagando su quello che è successo e come tutti i cittadini ben venga se realmente ci sia altro. Io da quello che so e da quello che mi hanno detto i vigili del fuoco era un cortocircuito, quindi non posso dire altro, quindi non so altro. In ogni caso, aggiunge Iacovacci, la mia attività politico-sindacale va avanti. Io non ho ricevuto nessuna intimidazione, non ho ricevuto niente, quindi io che posso pensare? Cioè per me, come le commissioni già stanno già tutte quante, anche convocate, come vedete al sindacato stiamo facendo l'attività sindacale come normalmente si fa tutti i giorni. Quindi è una cosa che a me non mi colpisce, non mi ferma. Ancora un atto di vandalismo a Benevento nel centro storico, rubate le rose piantate dai bambini di un'associazione che si prende cura del rione Trigio, stessa zona dove nelle ultime settimane si erano anche registrati altri episodi di vandalismo. Vediamo. A Benevento sempre più spesso sono i comitati di quartiere, le associazioni, i privati cittadini o imprenditori a prendersi cura del verde pubblico e delle zone più caratteristiche dell'antica città. È il caso dell'associazione La Fenicia che mettendo nel centro l'educazione ambientale con i bambini protagonisti annualmente abbellisce con aiuoli e fiori tutta la zona del Trigio, a ridosso dell'antico teatro romano. Fiori in particolare rose finite nel mirino degli incivili che le hanno rubate da alcuni vasi. Non è un gesto molto bello principalmente perché è andato a inferire sui bambini che hanno messo. Noi come associazione cerchiamo di fare una forma di decoro particolare al quartiere Trigio proprio un senso di un degrado di persone che non si rendono conto che forse la nostra unica soluzione Benevento per salvare un attimino la città prima che scappano via tutti, i primi sono loro come ragazzi che non hanno un futuro qui, l'unica chance è il turismo. Zona purtroppo spesso al centro delle scorribande dei vandali, da qui arriva un accorato appello da parte dell'associazione affinché anche i vandali si uniscano a loro per il decoro del quartiere molto frequentato dai turisti che possono ammirare vasi fioriti in ogni angolo e anche riposarsi sulle panchine fatte appositamente dai volontari. Avere delle telecamere perlomeno nei siti, nei luoghi più sensibili, abbiamo tutti i visi di questi soggetti che hanno fatto queste cose, non vogliamo andare oltre però insomma rendetevi conto di quello che state facendo, rovinate la vostra città. Torniamo a Prata, Principato Ultra, in provincia di Avellino, il giallo della scomparsa di Mimì Manzo. La procura ha indagato 5 persone ma il mistero è ancora fitto. Vediamo. Ci sarebbero almeno altri 3 indagati nell'inchiesta sulla sparizione di Domenico Manzo, il 69enne di Prata, Principato Ultra, di cui si sono perse le tracce da gennaio 2021. La procura di Avellino ha aperto un fascicolo a carico di 5 persone. In tutto, tra queste ci sarebbe anche la figlia Romina e una sua amica. Le altre invece sono amici e conoscenti di quest'ultima che hanno partecipato alla festa di compleanno dell'8 gennaio 2021, giorno della scomparsa di Manzo. Mimì nel corso di quella serata si è allontanato per fumare una sigaretta e poi non si è più visto. Secondo alcune testimonianze l'uomo è salito a bordo di una macchina, ma questo aspetto insieme a tanti altri resta ancora poco chiaro. Io quella sera ero in Piazza Libertà da un mio amico a consumare delle birre, poi io gli ho spiegato tutto il percorso che ho fatto con la macchina, perché la mia macchina sta qua e ha un GPS collocato dall'assicurazione, Unipol sai. La magistratura e i carabinieri hanno visto che le cose non andavano per il verso giusto. Lavorava con me, siamo stati in buon rapporto. Una persona che ogni mattino lo vedevo, è sempre solare, una persona splendida. Tanti interrogativi che ancora oggi, a distanza di più di un anno, restano ancora senza una risposta. E si parte ovviamente dall'ultimo giorno in cui è stato visto Mimì in manzo la sera della festa. A casa dell'uomo c'erano gli amici di Romina, una decina di persone, tra questi cinque indagati. Durante la serata c'è stato un litigio proprio tra Romina e il padre, normali discussioni che accadono in famiglia. Improvvisamente Mimì esce di casa per andare a fumare una sigaretta e non fa più ritorno. Le ultime tracce dell'uomo sono state registrate dalle telecamere del paese. Visite guidate per i turisti in arrivo in città dalle navi da crociera e l'accordo intrapreso a Salerno tra Confguide e Federalberghi per migliorare l'accoglienza. Vediamo. Migliorare l'accoglienza dei turisti in arrivo in città con le navi da crociera con visite guidate nei principali siti artistici e culturali è il fulcro dell'accordo intrapreso tra Federalberghi e Confguide Salerno, una collaborazione tesa alla valorizzazione e ad attrarre maggiori flussi di visitatori con benefici del settore ricettivo e commerciale. Siamo stati convocati nella Commissione Consiliare del Turismo e ci è stato chiesto un supporto su questa materia. Abbiamo quindi stanziato un piccolo budget ed intesa con Confguide ci siamo resi disponibili a sostenere alcune visite guidate della città perché siamo convinti che questa città possa dare tanto in termini di valorizzazione delle risorse culturali e questo possa consentire sia una migliore fruizione della ricettività cittadina che una migliore fruizione delle strutture commerciali che sono attestate intorno al centro storico. Importante poi apportare interventi per migliorare l'accoglienza in città. Noi riteniamo innanzitutto che vada più presto programmata e realizzata una wifi free zone nel centro storico perché i turisti possano orientarsi con i loro apparati cellulari. Riteniamo che vada meglio focalizzata e potenziata l'app Visit Salerno che pure è stata sostenuta dal comune di Salerno in passato e riteniamo che vadano fornite urgentemente alle strutture ricettive e a tutti i croceristi delle mappe illustrate della città in maniera tale che possano conoscere i principali monumenti le principali attrazioni della nostra bellissima Salerno. La politica ritorni alla serietà e all'unità nel bene dei cittadini del Sannio. Questo l'appello lanciato dall'esponente di Forza Italia Francesco Maria Rubano che interviene in difesa delle grandi opere da costruire in provincia. Il Sannio anche grazie ai fondi messi a disposizione dal governo con il PNRR interessato dalla costruzione di grandi opere necessarie per il rilancio di tutte le zone interne. Progetti, intendi ed idee che inevitabilmente finiscono al centro di scontri politici ed è per questo motivo che dal vice coordinatore regionale della Campania e commissario provinciale di Benevento di Forza Italia Francesco Maria Rubano arrivano una serie di precisazioni in merito e un accorato in mito proprio alla politica affinché si torni all'unità almeno sul tema dello sviluppo dei territori. Deve ritrovare un momento o una condizione di unità e disenergia almeno sui temi di interesse generale. La diga di Campolattaro dovrà rappresentare un riscatto d'orgoglio e soprattutto un momento di rilancio economico storico per l'intero settore agricolo così come tutte le soggettività economiche che sono presenti nel nostro territorio. Noi di Forza Italia non abbiamo difficoltà e riusciamo a dimostrarlo senza alcuna ipocrisia rimarca Rubano nel riconoscere meriti altrui. Invitiamo tutte le forze politiche ad impegnare ogni sforzo attraverso una strategia dialogante e bipartisan perché soltanto attraverso l'unità, soltanto attraverso il ritrovamento di una sinergia comune, di una strategia unita o a noi riusciremo a rilanciare la nostra economia e i cittadini potranno beneficiare un'azione politica reale e concreta. PNRR aree interne, il consigliere del ministro per il Sud Carfagna chiede all'Irpinia di accelerare con le candidature per accedere ai fondi e punsecchia anche la provincia di Avellino. Vediamo. Seduti allo stesso tavolo ma divisi da un forte gelo istituzionale sul PNRR si consuma lo scontro tra il passato e il presente di Palazzo Caracciolo. Domenico Gambacorta e Rizzieri Monopane insieme all'evento di presentazione del concorso di progettazione per riqualificare la frazione Gaudi di Monteforte Irpino ma l'imbarazzo tra i due era evidente, accentuato dalle dichiarazioni di Gambacorta che nella qualità di consigliere per le aree interne del Ministero per il Sud lancia l'allarme sui ritardi della provincia Irpina per intercettare i fondi del PNRR. A disposizione c'è un plafond consistente di 500 milioni per le aree interne del Mezzogiorno per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità. La scadenza del bando per presentare la candidatura all'avviso pubblico è stata prorogata ma Gambacorta punta il dito contro la poca collaborazione che sta ricevendo da Palazzo Caracciolo. La scadenza è stata prorogata dal 16 maggio al 15 giugno perché eravamo un po' sotto dal punto di vista della partecipazione sia da parte degli enti locali, sia da parte della provincia, sia da parte delle ASL che da parte degli ambiti sociali della 328. Io ho promosso questo progetto un po' dappertutto, sono stato in Puglia, in Molise, in altri posti della Campania ho fatto webinar con Mezzogiorno Italia, non ho avuto l'onore di essere invitato ancora in provincia di Avellino ma non è mai troppo tardi. Viabilità sempre più a rischio, sempre nelle aree interne, restiamo in Irpini, all'allarme arriva da Ariano Irpino dove in contrada Pignatale al confine con Villanova del Battista è diventato impossibile persino lavorare nei campi. In un reportage pubblicato sul sito di 8 pagine, la protesta degli agricoltori, in una storia che si trascina da oltre 20 anni senza soluzioni. Un muro sta crollando, vi è il serio rischio che la strada interessata da un movimento franoso possa essere completamente chiusa con difficoltà enormi per le famiglie residenti impossibilitate a transitare con i mezzi agricoli per effettuare la trebbiatura. Viene rivolto un appello anche al Comune ad intervenire con la massima urgenza. I reflui zootecnici delle bufale riutilizzati per produrre biometano e il ricorso alle bioplastiche per confezionare la quarta gamma. Confagricoltura Salerno punta sull'energia pulita. Vediamo. Produrre biometano e concime nella piana del Sele dai reflui degli allevamenti bufalini e dagli scarti dell'ortofrutta, trasformando un problema in risorsa. Ma anche raggiungere l'autosufficienza energetica delle aziende agricole grazie alle bioplastiche e l'ambizione di Confagricoltura Salerno che ha presentato il progetto alla Camera di Commercio. L'impianto che sarà realizzato attraverso questi progetti di filiera sarà un impianto che procederà a risolvere questa problematica in quanto prenderà gli scarti e ne produrrà chiaramente concimi e energia, energia attraverso il biometano. Quindi chiudiamo il cerchio attraverso queste iniziative di questa famosa energia circolare. Un'opportunità per le aziende ma anche per il territorio che può così trasformare un grande problema come i rifiuti in una opportunità. Due impianti che praticamente abbiamo messo in cantiere adesso, sì, sicuramente risolvono il problema a circa 20.000 bufale. Il problema è che nell'area ce ne sono ancora tantissime. Vorremmo completare il progetto aggiungendo anche altri elementi che possano completamente realizzare una transizione ecologica di tutte le aziende sia bufaline che agricole della provincia. Ci accenciamo quindi a presentare queste filiere, diciamo, col quinto bando nell'andare a fare investimenti all'interno delle aziende in modo tale da poter far conferire i liquami zootecnici direttamente agli impianti di biometano. Quindi impianti di separazione, gestione di liquami tramite vasche, prevasche e tutto ciò che è a corrido per la gestione, diciamo, dei liquami. E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.